Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere come si usano le GPU remote utilizzando Nuvolaris. Quindi partiamo subito connettendoci a Nuvolaris, quindi adesso mi loggo con username e password e possiamo vedere l'ambiente di Nuvolaris. Ora noi abbiamo aggiunto qua un nuovo starter che dimostra come funzionano le GPU, il Python GPU Starter. Quindi il codice sorgente lo potete vedere su Github, ma noi iniziamo aprendo un code space che utilizza questo template. Però mentre cominciamo è necessario anche utilizzare una GPU, perché il nostro ambiente di sviluppo è senza GPU, ma per utilizzare una GPU lanciamo una GPU remota. Le GPU remote le possiamo lanciare in qualunque ambiente e nel nostro caso utilizzeremo Vast.ai, dove abbiamo creato un template apposito, questo qua per la GPU. Quindi adesso selezioniamo il template e lo lanciamo. E qua abbiamo le varie GPU che possiamo utilizzare. Utilizzeremo per questo demo una GPU 3090, quindi inizio e la richiedo. Vediamo che la GPU, il server di GPU che utilizzeremo come server remoto per eseguire le funzioni che utilizzano la GPU, sta partendoci, quindi ci metterà un attimino. Ecco, adesso vedete che è già partito. Adesso che vedete che il server è partito, la cosa importante che abbiamo è utilizzare questo indirizzo che serve per accedervi. In realtà, in generale, utilizzeremo un sistema load balancer e un IP fisso, ma in questo demo vi faccio vedere semplicemente come utilizziamo la GPU puntando a uno specifico server di backend che è in grado di eseguire il codice con GPU. Se adesso torniamo, ecco, abbiamo lanciato l'andame di Novolaris e adesso mettiamo in modalità sviluppo. Quindi prima ci lo chiamo a Novolaris, ecco qui. Bene. Dopodiché andiamo in modalità sviluppo. Adesso abbiamo lanciato Novolaris in modalità sviluppo. Possiamo aprire il nostro, il nostro ambiente di test sviluppo. Come vedete qua stiamo utilizzando Master GPT che serve come frontend per accedere ad applicazioni di backend su Novolaris. Qui, per default, abbiamo il bottone OpenAI che ci permette di accedere al test che utilizza direttamente OpenAI. Quindi, se io gli chiedo chi sei, lui mi risponderà che è una AI, ma questo qui non usa la GPU. Utilizza una chiamata REST che chiama OpenAI. Adesso invece vi faccio vedere come è possibile scrivere codice che effettivamente utilizza la GPU sfruttando questo server, questo server che è un server di backend a cui invieremo le funzioni, le funzioni che utilizzano la GPU. Quindi, apriamo il codice, iniziamo con questo codice di check. Ok, io qua metto uno spazio in modo tale che non uso la GPU, quindi se lo salvo e provo a eseguirlo, mi risponderà che siccome il runtime predefinito di Novolaris non usa GPU e non ha la libreria Torch che serve per accedere al GPU, mi risponderà con un errore dicendo che non c'è Torch. Infatti, se io adesso clicco sul bottone GPU, mi risponde che non c'è Torch. Perché non lo usa? Però adesso vi faccio vedere come si utilizza invece effettivamente la GPU. Quindi vado qua, prendo in questo caso il puntamento, ma come ho detto questo è un caso semplificativo, in generale utilizzeremo un load balancer, che questo lo fa automaticamente, e nella funzione aggiungeremo qui un puntamento alla GPU. Quindi io adesso salvo, salvo. Adesso questo codice verrà forwardato e inoltrato al server con GPU. Adesso clicco sul bottone GPU e vedremo che il codice verrà inoltrato al server con GPU. Ecco fatto. Adesso invece il codice è stato eseguito e ha detto CUDA TRUE. Perché se andate a vedere il codice mi accorgete che qua ha provato a leggere e ad accedere alla GPU, la risposta è che CUDA è disponibile. Perché praticamente questo codice adesso invece di essere stato eseguito direttamente dall'ambiente server, è stato forwardato a un server con GPU. Adesso è possibile fare delle cose più interessanti. Dobbiamo sempre puntare al nuovo server con GPU. Adesso facciamo un esempio sentiment analysis. Questo è un esempio che utilizza, utilizzando la libreria transform di Hugging Face, carica un modello, un modello di analisi dei sentimenti, quindi ci dice se una frase buona o cattiva e quindi la esegue. Quindi tutto quello che abbiamo dovuto fare per utilizzare un codice che è Python che ha bisogno delle GPU è stato semplicemente cambiare il puntamento per usare il server di GPU. Quindi se io adesso clicco sul bottone sentiment, i luoghi si fai anche qui, quindi lo scopo di questo codice è anche di inizializzare. Quindi prima di tutto viene eseguito un passo di inizializzazione che scarica eventuali librerie mancanti e soprattutto scarica i modelli da Hugging Face. Se il modello è pronto io gli posso dire I love you, quindi quindi è positivo. Invece se io gli dico che ti odio, I hate you, il sentimento ovviamente è negativo. Ma è possibile fare di più. Non si limita semplicemente a scaricare modelli brevi, cioè modelli di analisi di sentimento, ma può scaricare interi LLM. Il terzo esempio che vi faccio vedere è quello che utilizza il modello FIDI di Microsoft. Quindi adesso io qua aggiungo il puntamento al server di GPU nuovamente. Notare che c'è anche un token che serve per accedere a Hugging Face, quindi questo qua dice che richiede anche il login ad Hugging Face per poter scaricare e nell'inizializzazione esegue una serie di passi che tra l'altro prendono pure un po' di tempo perché devono scaricare 14 giga di modello. Ancora una volta vado sull'interfaccia e inizia l'attività di download ed è anche vederle qui stesso. Quindi se io eseguo più volte all'inizio mi dirà che sta scaricando tutti i vari pezzi e poi quando l'inizializzazione è completa mi dirà che posso cominciare a dargli degli input. Ecco qua ha finito e adesso l'inizializzazione è stata completata e posso procedere e posso interrogare il modello FIDI. Per esempio mi posso dire qual è la capitale d'Italia. Il modello è un puro modello di completamento quindi risponde inizia con quello che io ho proposto e risponde e poi continua un po' per conto suo perché perché fa così cioè è un puro completamento quindi non ha stop o start eccetera però è semplicemente una caratteristica del modello ma ce ne sono altre che invece sono conversazionali. Quindi se io gli chiedo what is the capital capital of united states il modello risponderà che è che è anche Washington eccetera. Comunque questo ovviamente qui potete utilizzare i vari tutti i modelli che sono disponibili su Hockey in Face quindi potete installare qualunque libreria quindi avendo una gpu abbastanza grande e con abbastanza spazio disco potete scaricare anche l'ama 70 billions o addirittura falcon con 180 billions anche se lì si vuole una gpu decisamente grossa per utilizzarlo. Comunque il principio avendo le gpu adeguate è perfettamente possibile farlo direttamente utilizzando Nuvolaris e la funzione di supporto di cpu remote che abbiamo implementato. Grazie per l'attenzione e alla prossima